salve a tutti in questo video vorrei rispondere all'affondo che mi ha rivolto attraverso un comunicato stampa il capo di stato maggiore della difesa giuseppe cavo dragone per le mie parole a carta bianca che cosa è accaduto prima ripostruisco il contesto e poi vi dirò quale sia il mio punto di vista e più in particolare la mia risposta al comunicato stampa del capo di stato maggiore della difesa giuseppe cavo dragone aveva rilasciato un'intervista a marco menduni un'intervista pubblicata dalla stampa in cui tra le altre cose diceva non esiste una soluzione militare alla guerra in ucraina da quello che io sostengo dal 24 febbraio 2022 né l'ucraina può sconfiggere la russia sul campo né la russia può piegare l'ucraina sostanzialmente conquistare kiev quindi le parole di giuseppe cavo dragone sono di una chiarezza inequivocabile non esiste una soluzione militare alla guerra in ucraina a carta bianca io mi sono limitato durante il mio faccio a faccia con maurizio lupi c'erano anche altri ospiti graditissimi ospiti mi sono limitato a dire il capo di stato maggiore giuseppe cavo dragone ha detto non esiste una soluzione militare alla guerra in ucraina e poi ho aggiunto sconfessando implicitamente la linea politica del governo meloni attenzione se doveste poi guardare guardare la puntata del mio intervento a carta bianca vedrete che le cose stanno esattamente come vi sto dicendo io non ho detto il l'ammiraglio giuseppe cavo dragone ha sconfessato la linea politica del governo meloni ho detto dicendo che non esiste una soluzione militare alla guerra in ucraina giuseppe cavo dragone ha sconfessato implicitamente la linea politica del blocco occidentale guidato da biden in ucraina perché io come sapete ho creato questo canale youtube nella speranza di innalzare la qualità del dibattito pubblico in italia quindi il dibattito pubblico si innalza nella sua qualità attraverso il ragionamento quindi questo non è un video contro giuseppe cavo dragone di cui io sono un estimatore come ho detto a carta bianca penso che l'italia abbia un ottimo capo di stato maggiore penso che giuseppe cavo dragone sia una persona di grande cultura di grande preparazione penso che sia il miglior capo di stato maggiore della difesa che l'italia possa avere non è assolutamente un video contro giuseppe cavo dragone è soltanto un video per ragionare insieme ragioniamo il governo meloni biden ursula von der leyen stoltenberg non fanno altro che dire che esiste una soluzione militare in ucraina ed è per questo che noi dobbiamo sostenere l'ucraina fino alla sconfitta della russia sul campo è per questo che noi continuiamo a inviare armi perché stoltenberg dichiara non in maniera implicita non è che lasci intendere dichiara che la russia deve essere sconfitta sul campo e sarà sconfitta sul campo tant'è vero che alcuni giorni fa stoltenberg ha detto poi queste informazioni io le pubblico con dovizia di particolari sul sito di cui sono direttore sicurezza internazionale punto com stoltenberg ha detto l'ucraina entrerà nella nato ma soltanto dopo avere sconfitto la russia quindi lo ripeto il governo meloni continua a inviare le armi perché biden stoltenberg ursula von der leyen affermano che una soluzione militare alla guerra in ucraina esiste come esiste e come perché insieme con zelensky ursula von der leyen stoltenberg e biden dicono che la russia sarà sconfitta sul campo ora se il capo di stato maggiore della difesa afferma che non esiste una soluzione militare alla guerra in ucraina perché la russia non può essere sconfitta sul campo dal mio punto di vista chiaramente parliamo di interpretazioni dal mio punto di vista a me sembra di poter affermare come conseguenza logica che queste parole di giuseppe cavo dragone contengano una sconfessione implicita della linea politica soltanto del governo meloni ma anche di biden di stoltenberg e di von der leyen in ucraina perché questi ultimi affermano che esiste una soluzione militare alla guerra in ucraina giuseppe cavo dragone dice che non esiste una soluzione militare alla guerra in ucraina a questo punto giuseppe io mi sono limitato a dire questo a carta bianca a questo punto giuseppe cavo dragone pubblica un comunicato stampa molto ruvido nei miei confronti intanto io a carta bianca ho espresso soltanto stima e apprezzamento per giuseppe cavo dragone cosa che ribadisco siccome giuseppe cavo dragone pubblica un comunicato stampa ruvido nei miei confronti io cambi opinione su di lui anzi ci tengo che non arrivino messaggi pedagogici sbagliati io ritengo che i giovani italiani debbono essere educati al rispetto nei confronti di chiunque indossi una divisa figuriamoci il rispetto verso il generale dei generali giuseppe cavo dragone è un ammiraglio ma per farmi capire da tutti è il generale che dà gli ordini a tutti gli altri generali ci mancherebbe altro quindi rimango sorpreso perché secondo me questo comunicato stampa immagino che non l'abbia scritto giuseppe cavo dragone ma qualche suo consigliere qualche esperto della comunicazione è scritto decisamente male perché mi pone nella condizione molto imbarazzante di dover fare un video di replica perché è un comunicato stampa volto a delegittimarmi perché mi attacca sul piano personale se avessero fatto comunicato stampa adesso io ve lo leggo diverso costrutti in maniera diversa io mi sarei risparmiato questo video dire che un professore universitario distorce l'informazione riporta i fatti in maniera faziosa e questo è è abbastanza impegnativa come affermazione vi spiego perché perché non sono un politico se qualcuno dice quel politico è fazioso il politico non ha problemi però dare a un professore universitario a uno studioso del fazioso c'è una persona che in piena coscienza manipola le parole di un'altra persona per sorreggere le proprie tesi è un fatto molto grave molto grave e che inevitabilmente richiede una risposta qui leggiamo che cosa scriva il giuseppe capodragone in questo comunicato comunque chi l'ha scritto per lui comunicato dice durante il programma carta bianca andato in onda ieri sera sul rai 3 di questo comunicato stampa è di mercoledì carta bianca andata in onda martedì durante il programma carta bianca andato in onda ieri sera sul rai 3 il professore alessandro orsini ha liberamente e faziosamente interpretato alcune delle mie dichiarazioni rilasciate a un quotidiano nazionale nell'ambito di un'intervista in merito oltre a rigettare ogni tentativo di strumentalizzazione delle mie parole ribadisco che nell'attuale guerra in ucraina non ci sono spazi interpretativi ne è possibile lasciare adito a dubbi che forse stanno in casa altrui è costruito male un comunicato stampa così perché è un attacco contro uno studioso in questo caso contro di me è costruito così il comunicato stampa è costruito male perché mi costringe a replicare perché qui si parla di un alessandro orsini che riporta liberamente e faziosamente le sue parole le sue dichiarazioni ho già scritto che sulla guerra in ucraina non ci sono dubbi e magari questi dubbi sono in casa altrui non so io immagino che casa altrui sia riferita a casa mia no non ci sono dubbi perché anche io ho sempre condannato con la massima fermezza l'invasione dell'ucraina da parte della russia e infatti e infatti comunicato va avanti esiste un aggressore la russia e un paese aggredito l'ucraina poi qui a dn kronos scrive chiude il virgolettato lo dichiara al capo di stato maggiore della difesa miraggio giuseppe cavodragone poi qui si riprende con il virgolettato quindi di nuovo il comunicato stampa sin dalle fasi iniziali dell'invasione russa continua giuseppe cavodragone ho fermamente condiviso la necessità di fornire supporto sostegno e aiuto anche militare a un popolo che sta difendendo i propri confini nazionali i propri valori sì ma io non è che abbia messo in discussione questo a carta bianca e soprattutto la propria libertà in qualità di capo di stato maggiore della difesa dell'italia riaffermo che il nostro impegno dal 24 febbraio 2022 è lo stesso di oggi e tale sarà anche domani come paese nato e come membro fondatore dell'unione europea vabbè qui aggiungerei che non esiste nessun trattato internazionale che imponga l'italia di inviare armi in ucraina perché l'ucraina lo sappiamo non fa parte né della nato né dell'unione europea quindi dire che noi inviamo le armi in ucraina perché noi facciamo parte della nato e dell'unione europea così è un po dire niente noi violiamo tutti i giorni la costituzione perché ce lo chiede biden la costituzione italiana ripudia la guerra come strumento per la risoluzione delle controversie internazionali in ucraina c'è una controversia internazionale la nostra costituzione classifica in maniera inequivocabile la guerra in ucraina come controversia internazionale il governo draghi prima e il governo meloni adesso ritiene che questa controversia internazionale debba essere risolta attraverso la guerra sono dichiarazioni esplicite chiarissime in ucraina c'è una controversia internazionale l'italia gli stati uniti la nato europea ritengono che questa controversia internazionale è una controversia internazionale debba essere risolta con la guerra e ma l'italia non lo può fare e contro la nostra costituzione perché la costituzione italiana ripudia la guerra come strumento come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e in ucraina c'è chiaramente e inequivocabilmente una controversia internazionale che noi stiamo cercando di risolvere con una guerra perché infatti il nostro slogan è porteremo putin al tavolo della pace con la guerra ma la costituzione italiana non consente di procedere in questo modo poi comunicato stampa prosegue in questo modo sono fermamente convinto che sia un dovere per ogni paese democratico sostenere la resistenza delle forze armate ucraine contro la vila invasione russa che non ha risparmiato le atrocità della guerra neppure alla popolazione civile e anche su questo sono d'accordo causando troppe vittime innocenti in violazione delle più elementari norme del diritto internazionale ma io sono d'accordo su questo punto ma resta il fatto che in ucraina noi stiamo cercando di dirimere una controversia internazionale con la guerra e non lo possiamo fare in base alla costituzione ora io posso capire che qualcuno possa avere avuto dubbi all'inizio della guerra il 24 febbraio e nella confusione ci siamo distratti non sapevamo che cosa fare e abbiamo violato la costituzione inviando le armi lo posso capire e se volete lo posso anche giustificare nell'invasione tutto all'improvviso non c'è stato tempo di ragionare ma siamo al sesto invio di armi il sesto invio di armi è passato un anno tutti hanno capito che noi stiamo cercando di risolvere i problemi in ucraina alimentando la guerra dall'esterno ora se gli stati uniti vogliono procedere in questa direzione facciano pure per quanto io penso che sia una direzione sbagliata che si debba andare a una mediazione con la russia proprio perché ritengo che non esista una soluzione militare alla guerra resta il fatto che l'italia non lo può fare non lo può fare e lo sta facendo quindi spero di avere chiarito il punto non ho assolutamente distorto le parole a carta bianca del capo di stato maggiore della difesa non ho assolutamente riportato in maniera faziosa o malevola quanto il capo di stato maggiore della difesa ha dichiarato nella sua intervista alla stampa va bene io vi ringrazio molto e a presto